Come annunciato anche in conferenza stampa dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, la tanto temuta seconda ondata del Covid-19 è arrivata e sta facendo registrare nuovi contagi anche in area vestina. C'è da dire che i numeri per adesso, anche a fronte di più tamponi eseguiti, non sono gli stessi della prima ondata, quando a marzo ed aprile, dopo un incremento rapidissimo della curva epidemiologica, la ASL di Pescara dovette riconvertire l'ospedale San Massimo di Penne in Covid Hospital. e la regione circoscrivere l'area vestina e quella confinante del Fino in zone rosse. Dunque per ora la situazione sia nei comuni sia presso il presidio ospedaliero resta sotto controllo, anche a seguito del caso asintomatico riscontrato tra il personale medico. Fino ad ora sì, anche perché per esempio per accedere all'ospedale, come avete visto, alle persone viene presa la temperatura e nel caso in cui sia necessario il ricovero ospedaliero viene anche fatto il tampone, in maniera tale che i negativi possano avere accesso alla struttura, eventuali pazienti risultati positivi vengono avviati all'ospedale Covid di Pescara. Quindi questo dà una certa sicurezza per chi deve ricorrere alle cure ospedaliere. Il comune di Penne, tramite il suo account ufficiale Facebook, ha comunicato ieri la positività di un uomo di 52 anni e così i positivi nel centro più popoloso dell'area vestina negli ultimi giorni salgono a 5. Intanto emergenza temporaneamente rientrata presso il centro di accoglienza Lapis, dove si temeva un piccolo focolaio tra gli ospiti. Il numero di casi più elevato a Cole Corvino, dove il sindaco Antonio Zaffiri ha comunicato la positività di 12 persone di età compresa tra i 5 e gli 89 anni, tra cui via un'intera famiglia. I 12 positivi sono tutti in isolamento domiciliare. Solo un ragazzo nei giorni scorsi è dovuto ricorrere alle cure in ospedale per tenere monitorata la saturazione. In Valfino, a Bisenti per la precisione, ci sarebbe un matrimonio celebrato domenica. quale elemento in comune tra quattro persone risultate positive al coronavirus e per questo si teme l'insorgere di un focolaio. Diverse, infatti, le persone che in queste ore stanno manifestando febbre e sintomi influenzali. Più di una ventina i tamponi eseguiti nelle scorse ore e di cui si attende il risultato. Molti altri potrebbero essere eseguiti nei prossimi giorni. Ad amplificare la paura la mancanza di un sindaco che conosce persone e territorio, dato che il comune al momento è commissariato per via del mancato raggiungimento del quorum alle recenti amministrative.